4 le persone ferite, tra i quali un 45enne parmense residente nel comune di Langhirano, nell'incidente avvenuto nel tratto autostradale di Pegognaga-Mantova-Sud, intorno alle ore 6.30 di martedì 20 aprile. Uno scontro terribile, contro un tir, che nell'impatto ha sbalzato il conducente parmense e la guida del furgone appartenente ad un'azienda di Mamiano di Traversetolo, contro un altro mezzo pesante in arrivo. Ancora poco chiare le circostanze dello scontro avvenuto sulla A22, in un tratto di strada che prevedeva la circolazione dei mezzi incolonnati, a causa di alcuni lavori in corso. Il 45enne parmense, per motivi ancora sconosciuti, avrebbe invaso con il proprio mezzo la corsia opposta e per i veicoli coinvolti è stato impossibile evitare l'impatto e le successive conseguenze. La polizia stradale di Verona immediatamente si è messa al lavoro per maggiori accertamenti a riguardo e in brevissimo tempo sono giunti sul luogo anche i lì soccorso e i vigili del fuoco, che dopo aver estratto il 45enne parmense dalle lamiere, hanno inizialmente trasportato il ferito presso l'ospedale di Cremona, poi successivamente trasferito all'ospedale di Brescia, date le sue gravi condizioni, sottoponendolo ad un intervento chirurgico. Il conducente parmense era in viaggio per lavoro, in direzione nord sull'autostrada del Brennero per fare consegne presso un'industria alimentare quando è successo il fatto. Per consentire il recupero dei veicoli e i soccorsi sono stati prontamente chiusi caselle autostradali di Rolo Reggiolo, Pegognaga e Mantova Sud. In seguito agli avvenimenti si sono verificate lunghe code e la circolazione è ripresa intorno a metà mattinata, ma non senza causare disagi agli automobilisti. Attualmente i medici non si sbilanciano sulle condizioni del ferito, ma secondo alcuni conoscenti del 45enne parmense, l'uomo sarebbe sotto osservazione dopo delicatissimo intervento chirurgico ed ora stabilizzato in attesa di risposte positive dal suo fisico per poi affrontare tutti i traumi agli arti. Nicola Comparato, TG Parmense.